Dall'inizio dell'anno sono 12 nuovi casi di disturbi del comportamento alimentare che si sono presentati all'attenzione dell'equip dell'ambulatorio dedicato presso l'ospedale di Piacenza, in aggiunta alle pazienti già in carico. Circa 200 invece le persone che dall'inizio del 2017 hanno richiesto una valutazione. Anche quest'anno si celebra la settima giornata nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari. Il Fiocchetto sarà esposto nella nostra città giovedì 15 marzo in memoria di una ragazza morta nel 2011 per bulimia nervosa. In quella giornata l'ambulatorio presso Medicina Interna rimarrà aperto dalle 9 alle 17 per visite gratuite e informazioni. L'ASL di Piacenza ha attivato dal 2003 il programma per il trattamento dei disturbi alimentari diretto da Giuliano Limonta, costituito dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche e dalle Unità Operative di Medicina Interna e Pediatria. I disturbi del comportamento alimentare, evidenziano i professionisti piacentini, negli ultimi decenni sono notevolmente aumentati, con un abbassamento dell'età d'esordio sia per l'anoressia nervosa sia per la bulimia nervosa. L'iniziativa si svolge in collaborazione con l'Associazione Punto e a Capo. Il nostro ambulatorio, spiegano gli esperti, garantisce una presa in carico psico-nutrizionale del paziente a livello ambulatoriale con assistenza al pasto assistito o accesso al day hospital in casi selezionati. Il nostro ambulatorio, spiegano gli esperti, garantisce una presa in carico psico-nutriionale